E' arrivato il momento di presentarvi un bellissimo coro, coro di Skip, vincitori del varietà dilettando, sono 17 ragazzi che canteranno, un grande applauso! Grazie a tutti! Oh yeah! Si dice così, no? E poi, e poi, che idea! E qual'idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea! E qual'idea? Che maliziosa ma saprà tenere a bada? Superburgo, un po' dove te? Che forte avresti di speciale che in un altro non c'è? Che idea! Qual'idea? Vedi che lei non ci sta? Che idea! Qual'idea? A pentola e lunga la sale e ti farà girare in fondo Senza bene mai le cose che pretendi scusa e in fondo scusa tu che sai? Balla! 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 Che idea! Che idea! Che idea! Ma qual'idea? Vedi che lei non ci sta? Balla! Dai! Balla! 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 Nel suo corpo c'è la febbre del dolore Il riso del dolore Il riso del dolore E-J-E! 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 Mamma mia, mamma mia, bravita Bravissimi, complimenti Allora, fantastici, Barbara Allora, facciamo così Bene, benissimo Allora, Barbara, una battuta veloce Per dirci quello che vuoi Insomma, parlaci un po' Questo lavoro Come è possibile svolgerlo in maniera così efficiente Con tutti questi ragazzi che sono arrivati A raggiungere questi ottimi risultati Beh, la cosa non è difficile Basta saperci divertire quando facciamo le prove Tutto qua, noi ci divertiamo tantissimo Bene, grazie Grazie ancora Allora, noi concediamo Barbara Prego Grazie a tutti